Pignatio! Con il numero 22 Antonio! E con il numero 27 Prius! Con il numero 28 Urmi! E con il numero 33 Diago Silva! A disposizione del Milan! Con il numero 1 Marco! Con il numero 5 Felipe! Con il numero 10 Graz! Con il numero 23 Massimo! Con il numero 25 Daniele! Con il numero 70 Robson Tessosa! Con il numero 92 Sebast! Il nostro allenatore Massimo Miliano! Arbitra l'incontro Daniele Usato! Assistenti, copelli e ruoli! Benvenuti nella casa! Pettra l'incontro Daniele Usato! Attenzione pareto, i genitori del bambino Edoardo Piai, sono attesi al basso di Polizia dello stadio, grazie! E continuate! Grazie! Grazie! Grazie!